Il Caffè Letterario Quasimodo di Modica ha celebrato sabato scorso al Palazzo della Cultura il decennale della sua fondazione. Dopo il saluto dell'amministrazione comunale di Modica, nonché del presidente del Consiglio Comunale, Roberto Garaffa ha aperto la serata, che si è poi snodata in una lettura di Daniele Voj e degli stessi autori di testi poetici contenuti nell'antologia I Poeti del Caffè Letterario Quasimodo, pubblicata per l'occasione e che è stata presentata dal critico letterario messinese Giuseppe Manitta, che ha illustrato i temi e i motivi dei poeti del gruppo, Franca Cavallo, Silvana Blandino, Gianni Di Giorgio, Carmelo Di Stefano, Grazia Dormiente, Antonella Monaca, Salvatore Paolino, Elia Shonti, Lucia Trombadore e del suo fondatore e presidente Domenico Pisana, cogliendo la molteplicità caleidoscopica di ognuno di loro e il senso del loro impegno culturale non solo a livello locale ma anche oltre. Alcuni intermezzi musicali a cura del trio composto da Lino Gatto, Giovanni Laferla e Nuccio Pisana hanno arricchito la serata, che è stata condotta dal giornalista Giorgio Frattantonio. Inoltre sono stati consegnati attestati a molti musicisti, che hanno arricchito con le loro musiche gli incontri del Caffè Letterario nel corso dei 10 anni ed altri attestati a fedeli partecipanti agli incontri del Sodalizio. Grazie a tutti.